Musica Idee, passione e impegno costante sono a nostra forza. Tanta esperienza nel settore dei casalinghi e la continua espansione della nostra attività. Il vostro assortimento di articoli delle marche di maggior prestigio e la certezza di offrirvi i prezzi più competitivi. Questa è la migliore garanzia per i vostri acquisti. Vieni da Follimanie, via Petraro 93 e Castellammare di Stabia. Ami la buona cucina? Vuoi festeggiare un evento in particolare? Vuoi gustare una squisita pizza? Un panozzo o una cena di terra e di pesce? Abbiamo noi il posto giusto per te. Vieni a trovarci al ristorante al Focolare di Enzo Baiano per il tuo wedding con la specialità delle specialità. Il piano bar ricco di divertimento di Patrick e Lello nel loro live show. Il ristorante al Focolare è sempre il luogo giusto. Vieni a trovarci in via San Rocco 307-309 a Marano di Napoli. Grandi giochi per piccoli giocatori. Dove? Da Fantasie di Antonio Procida. Dove assortimento e qualità non hanno uguali. Bambini, prima di scegliere venite da Fantasie. La casa dei balocchi più bella che ci sia. Tutto quello che desiderate, ma proprio tutto e altro ancora. Fantasie e giocattoli lo trovate in via Tavernola 152 a Castellamare di Stabia. Il tuo bollo è in scadenza? Hai dimenticato di pagarlo e non sai come fare? Non trovi più la ricevuta di un vecchio pagamento? Hai bisogno di assistenza per esenzioni o condizioni particolari? Non preoccuparti. Entra nell'agenzia Daga e togliti il pensiero. Avrai tutte le informazioni di cui hai bisogno per evitare sorprese. E in più per te, assicurazioni, pratiche auto e moto, certificati vari, rinnovo e duplicato patente, albo trasporto merci, revisioni e assicurazioni d'epoca. Ci trovi in Via Madonna delle Grazie 180 a Santa Maria la Carità. O al numero 081 870 6182. O allo 081 870 1097. La storia del calcio a tinte giallo-blè porta un nome e un cognome. Assolutamente quello del presidentissimo Roberto Fiore. Noi siamo a casa del presidente Roberto Fiore. Guardiamo dalla terrazza, scorgiamo Castellammare di Stabia. Allora, presidente, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a voi. Sono lì e di fare la vostra conoscenza. Presidente, quando si affaccia al mattino dalla sua terrazza, un occhio a Castellammare lo butta da qui. È normale. Forse è una delle ragioni per cui abito qui. Presidente, lei è stata alla guida della Juve Stabia per tanti anni, vincendo soltanto un campionato in C2. Qual è però, secondo lei, il motivo per cui la ricordano ancora con tanto affetto nella città stabiese? Perché devo subito chiarire che gli stabiesi hanno una caratteristica. Sono veramente riconoscenti. Gli stabiesi io ho trovato che sono affettuosi. Forse ci sono pure i cattivi. Però io, forse perché mi sono comportato sempre bene, sono entrato nelle grazie della quasi totalità. E reciprocamente ci siamo voluti bene. Io, in genere, voglio spiegare che quando uno spende una cifra per una donna, non tanto facilmente benedice. Io, che ho speso una cifra importantissima, per portare avanti la quest'anno, io benedico quei soldi. Perché? Mi hanno dato delle soddisfazioni gli stabiesi. Che assicuro, non ce n'è uno che io non voglio bene. Ma lo dico sinceramente nell'anima. Io non farei mai un torto a un stabiese. Però, dovunque vado a trovare un stabiese, ecco, proprio ieri ho incontrato un stabiese, che è a via, grande presidente, sempre grazie a te che mi hai dato la possibilità di venire anche a Salamà. Quindi, è una specie di affettuosità istintiva. Nel suo trascorso, però, a tinte Giallo Blei, c'è qualcosa che le ha generato qualche rimorso? Magari qualcosa che non farebbe? Sì, te lo subito dichiarisco. Io sono convinto che il compito... non sono riuscito a portare avanti la Juve Stabile nella serie superiore. non perché io non avessi fatto delle squadre importanti. Ancora oggi, gli stabiesi vengono combattuti. Erroneamente, vengono visti male. Per cui, un successo della Juve Stabile avrebbe scatenato la gente. A questo si aggiunge che, sportivamente, in quel momento, la Juve Stabile, con Fiore, era temuta. Per cui, per cui, involontariamente, non involontariamente, anche volontariamente, c'erano nemici sparsi ovunque. io vi posso assicurare che c'era un motivo per cui non siamo andati in serie B, che non posso dire, che non posso dire, ma un motivo molto, molto grave, che io non potessi enunciare per tranquillità sociale, quindi, non posso dire altro, ma vi assicuro che non siamo andati in serie B per la lotta che veniva condotta a Roberto Fiore, ma per la lotta a Gistabiese, a Castellammare di Stabia, capisci? Tanto è vero, Castellammare, ancora oggi, prova difficoltà a decollare, non solo la squadra, perché ci sono troppo nemici. nessuno ha capito che il Castellammare poteva essere uno dei fiori all'occhiale dell'Italia, che nessuno l'ha capito, e l'ottore ancora oggi, potrei dire, sono chiusi i termini, e tante cose, non siamo andati in B, perché c'è una lotta, c'è sempre stato, e continua ad esserci una lotta contro Gistabiese. Quindi è un po' quello che sta vivendo oggi anche il Presidente Maniello, sono quelle delle difficoltà che non lasciano decollare la squadra? Beh, a questo si aggiunge questo, le varie difficoltà sono enormi, poi ci sono le difficoltà economiche, perché la Serie C non ha preso le misure, tutta la Serie C, i Presidenti non hanno preso le misure giuste per decollare, su questo argomento dovremmo parlare nel mezz'ora, e io vi spiegherei che è ancora possibile che le squadre di Serie C perché le squadre di Serie C non possono sopravvivere perché non hanno contributi e hanno delle spese di gestione notevolissime, si potevano e si possono apportare degli accorgimenti per far decollare la Serie C, però nessuno inizia la nuova opera. Un giorno, se voi gentilmente verrete, io vi spiegherò a mio avviso cosa bisognerebbe fare per far decollare non solo la Juve Stabile ma anche le altre squadre di Serie C. Il Presidente Mannillo in più di un'occasione a livello sia locale che regionale ha provato a legarsi alla politica. Lei ha avuto l'opportunità in passato? Comunque se sì, perché non l'ha fatto? Io abborro la politica perché purtroppo la politica contamina gli uomini. Non si può rimanere, non potevo rimanere Roberto Fiore che posso dire tutti mi apprezzano e nessuno può dire nulla su me. Se io fosse avessi aderito alla politica probabilmente non sarei stimato come oggi. Oggi a Casselammare si vive una situazione particolare per quanto riguarda la tifoseria. Spesso addirittura c'è il settore di istinti che risulta essere chiuso. Sono pochi i tifosi al seguito della squadra secondo lei perché e cosa si può fare per riportarli allo Stadio Menti? Guarda, su questo argomento non posso pronunciare perché il Presidente è una brava persona è capace però ogni Presidente dirige la società secondo a modo suo quindi io non posso non posso non ho mai dato consigli non ne posso dare adesso posso dare dei consigli generali sul calcio di Serie C ma nessuno mi ha interpellato e io non parlo. Gaetano Musella a Musella lei in una gara disse metti la palla nel 7 e io ti do 10.000 lire. lui mise la palla nel 7 corse da lei e le chiese la 10.000 lire. Ma forse ce ne dire di 11 guardi io sono sono l'unico Presidente al mondo che è successo un fatto veramente eclatante i familiari i familiari di Musella io non potete andare all'eseguo perché stava malata mi telefonarono al passare e mi disse affacciatevi perché c'è Gaetano che vi può salutare e io nessun Presidente al mondo ha ricevuto una spontanea dimostrazione di affetto come me l'hanno dato i Musella la madre e i due figli quindi mi dispiace se ne è andato. C'è un coro che è stato scritto tanto tempo fa che riguarda Cassellammare e la Juve Stabia in particolare noi qui oggi abbiamo anche l'autore di quel coro il bagnifico il bagnifico venite qua sentiamo ripetiamo buongiorno come va? mi trovo fresco ripetiamo che cosa? quello che voi avete scritto da sempre su di me uno, due, tre uno, due, tre tengo sangue gialloblè un, due, tre tengo sangue gialloblè il referendum che riguarda proprio il presidente Roberto Fiore presidente tu hai fatto innamorare questa gente nei tuoi occhi c'è il futuro questa squadra non la ferma più nessuno Monsiglio presidente canta tutta la città un, due, tre tengo sangue gialloblè questa è la storia questa 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 questo refrenno presidente però io non posso chiudere questa intervista prima di non chiamare qui tra noi un altro grandissimo legato alla US Sabia che mi ha permesso di fare questa intervista è che è Giovanni Giovanni Malafronte che è al pari del presidente della SD San Paolo Salvatore D'Antuono vieni Salvatore vieni anche tu Giovanni Malafronte eh alias mio figlio mio figlio perché perché questo questo giovane mi ha io lo reputo proprio un figlio adottivo perché mi ha dimostrato negli anni di volermi veramente bene e io li voglio bene e io lo vedo con la lacrimuccia agli occhi eh che parole ci sono guardate io non so in questo momento dire ma io lo il presidente lo voglio totalmente bene ma ma no perché Roberto Fiore perché c'ha delle cose di vita che nessuno ce l'ha io ci tengo molto per il presidente presidente ma lo sa che sta facendo cose grandi al pari di Salvatore D'Antuono con la sua scuola calcio la SD San Paolo lui è un grosso organizzatore bene quando uno è un entusiasta quando uno inizia delle delle cose con con spirito sportivo è da ammirare io veramente lo ammira perché a parte tutto mi fa piacere lui fa le cose buone nel campo sportivo perché tutti sanno che lui è parente a me allora non mi deve fare brutta figura e chi è chi è però io sono sicuro che questa iniziativa dei giovani darà dei benefici alla città perché nessuno si occupa veramente nessuno ha capito che bisogna partendo dallo sport la città di Castellammare se avrà dei cittadini che affrontano la vita sportivamente può migliorare e ci sono Castellammare avrebbe bisogno come dire di tanti giovanni perché può trascinare all'entusiasmo i giovani ed educarli bene per avere una migliore cittadinanza e allora presidente in chiusura io voglio il suo saluto per la piazza sabbiese per tutti quei tifosi che l'adorano io ai tifosi dico abbiate pazienza perché avere una squadra che organizzare una squadra è molto costosa e purtroppo mentre voi pagate diciamo l'abbonamento televisivo i benefici della vostra quota mensile vanno alle squadre superiori al Napoli e non è come che io sono convinto se dovessi fare un programma che spetterebbe alle squadre di C una percentuale della quota contributi che hanno le A perché si prende i soldi della C se andate come dovessi proporre fate una proposta adesso è difficile perché la bolletta viene dalla Rai viene pagata per campelette però uno dovrebbe rifiutarsi di pagare di pagare la Rai se non si distribuiscono mai i contributi i contributi dovrebbero andare anche alle squadre di C cioè Castellammare tiene 60.000 abbonati dovrebbe avere una percentuale da quello che prende il Napoli diciamo perché perché se non beneficia il Napoli si beneficia del del pagamento della quota Rai di Castellammare di Torre Anunziato di Torre del Greca mentre invece questi contributi dovrebbero almeno spartire è tutta una storia lunghissima però non è giusto che la squadra della Capitale si prende tutti i contributi che riguardano i soldi che hanno messo fuori Castellammare Torre del Greco Torre Anunziato non so se sarebbe da lungo bisognerebbe chiarire bene i concetti non so però credo che sia chiaro a Roma si prendono i contributi che riguardano Frosinona Viterbo Rieti ecco dovrebbero dare dovrebbero avere una spartizione in proporzione alle squadre della provincia è chiaro questo concetto invece questo non si è mai fatto io a 92 anni non posso mettere a fare diciamo non mi posso mettere in mezzo più però sicuro andrebbe fatto una modifica perché non è giusto che lo Stambio non tiene i mezzi a squadra principale a 200 milioni non è giusto non so se è chiaro questo concetto dovrebbe essere avere un'aliquota anche alla squadra della provincia va bene questo va